L'ultima volta che ho visto Alex Langer è stato nel suo ufficio. Dovevamo discutere di un microscopico problemino nella nostra Commissione Comune, la Commissione Regolamento. E una delle cose, la cosa che più mi ha stupito, quella che mi ha lasciato quando sono uscita da quell'ufficio, è ma perché Alex si occupa di cose così piccole? Me ne posso occupare benissimo io. E non mi dimenticherò mai, tre o quattro giorni dopo, quel corridoio che voi avete visto nel video in cui eravamo tutti attaccati ai muri sostanzialmente. E ricordo il fatto che, aspettando notizie, io avevo rosicchiato tutte le mie unghie che avevo messo un sacco di tempo a far ricrescere. Questo era anche un momento veramente di ansietà, di completa incomprensione, di sorpresa, di tristezza, ma anche di un vago e strano senso di colpa per non avere visto quello che stava succedendo. Per i verdi europei, l'abbiamo ascoltato anche oggi e per questo Parlamento, Alex Langer, insieme ad Adelaide Aglietta, di cui quest'anno ricorre il quindicesimo anno dalla morte, sono state delle figure costituenti. Costituenti nel senso di persone che hanno messo le fondamenta della nostra famiglia politica e anche di questa casa che, come avete sentito, sta rapidissimamente cambiando. Le fondamenta che poi permettono di crescere. Fondamenta che permettono di essere coscienti di se stessi come portatori di proposte, di valori e di pratiche nuove e rivoluzionarie e davvero europee. Questo non è stato facile. In quegli anni l'identificazione dell'agire verde passava molto attraverso le identità culturali e nazionali. Ed ognuna di questi piccoli passi è costato conflitto e fatica e costruzione di tanti ponti che oggi sono, diciamocelo, abbastanza solidi. Alex prendeva su di sé moltissimo e, come lui stesso ha detto, forse anche troppo. Però, e in questo voglio ripetere quello che ha detto Rebecca, Alex era anche una persona molto giocosa e dotata di un robusto, anche se sottile, senso dell'umorismo che nel mio ricordo vuole essere almeno così forte come quello delle sue battaglie nobili appunto perché nell'identità ecologista sta anche il gusto della bellezza, del buon vivere, del divertirsi insieme, del rifiuto di giudizi moralizzatori e di un sistema inquinato ed inquinante. In questo sta anche la parte migliore del suo e del nostro contributo culturale. In questi vent'anni, nella vicenda del mondo, dell'Europa e anche più, molto più modestamente, dei verdi italiani, io ho personalmente misurato il peso della sua assenza. Si dice spesso che nessuno è indispensabile. Io francamente non so davvero se questo sia vero. Però so che l'Europa ha avuto modo di iniziare a morire in molte occasioni, da Sarajevo in poi, e che c'è bisogno di molti guerrieri di pace per salvarla. Non sarò di certo molto originale quando dico che senza Alex questo è più difficile, ma che noi dobbiamo, senza tristezza, continuare in quello che è giusto. Grazie. Grazie.